ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale oggi vi farò vedere questo pacco che mi è arrivato oggi con l'unboxing del pacco poi monterò dopo questo video il video montaggio farò allora prima di iniziare vi voglio salutare alcuni di voi e allora saluto chris 74 in collezioni in collezionismo chris collation e saluto adesso ve lo dico quindi ciao chris 74 in collezionismo e complimenti per i video che fai allora continua così poi un altro che voglio salutare anche chris collezion seguitelo che è sempre francese e parla anche in italiano ma fa dei bei modellini ne fa un sacco allora alessandro riccioli quindi saluto anche lui ciao alessandro riccioli e lore e trattino basso e 191 seguitelo sui su youtube che anche lui è molto molto bravo a fare video quindi se adesso iniziamo con l'unboxing invece dopo i saluti quindi abbiamo il 3p di nuovo andatelo a rivedere la recensione dove e lo recensi recensi recencisco quello lì e faccio la recensione del prodotto questo qua questo è la bugatti veiron quindi mi è arrivato il secondo invio della bugatti veiron è breve ordinerò un altro e pacco allora questo è il cerchio nello pneumatico che monteremo fra un po in un altro video con la tassa uscita vedete che bello uno spettacolo di colore e anche del metallo voglio metterla in confronto con la delorean la delorean non è sparita ragazzi a breve volevo fare una modifica ma siccome non ho i componenti per farla devo aspettare un pochino quindi adesso devo cercare col cavo per fare una modifica che è un po particolare e poi dopo si riesco a fare una modifica bene sennò devo comprare dei numeri e proseguire con la macchina del ritorno futuro perché ho passi ragazzi ovunque ragazzi cioè veramente anche dei cavi ovunque però i cavi c'è da dire la verità fanno veramente pietà e scrifesse questa è la portiera quindi abbiamo numero 4 del della bugatti guardate che splendore di colori bella questa io la farò tutta e per finire la quinta uscita abbiamo lo specchietto ok quindi abbiamo la portiere giustamente dopo lo specchietto che è l'uscita numero 5 con i componenti poi abbiamo ricevuto i fascicoli quindi abbiamo numero numero 4 e numero 5 adesso di recupero il 3 eccolo qua il numero 3 l'ho recuperato se l'avevo lì che lo sto desendo e quindi ho l'iniziatto numero 4 e numero 5 quindi abbiamo questi componenti qua quindi abbiamo questo numero 5 numero 4 e numero 3 vedete sono numerate perfetto anche il numero 3 bello 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 mi piace quindi se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace al video commentate qua sotto attivate la campanella per le notifiche per ricevere tutte le mie notifiche e i miei video quando li farò e e poi iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo al prossimo alla prossimo al prossimo video montaggio che è dopo questo quindi tra un po chiudo un attimo il pacco ok ci siamo e ci vediamo al prossimo video ciao al prossimo video ciao 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 ciao